2014 un anno sicuramente importante per l'azienda un anno importante per l'elica la decisione di un grande cambiamento abbiamo cambiato il logo abbiamo cambiato il sito abbiamo cambiato tutti quanti i nostri prodotti e quindi ci presentiamo al mercato con una nuova spinta nuove idee la stessa passione cercando di uscire dalla cucina con prodotti diversi per trattare l'aria solamente non in aspirazione ma anche profumandola ma anche cercando di portare via umidità dall'ambiente e quindi bilanciare sempre di più la qualità dell'aria delle case gli obiettivi di elica come consuetudine sono quelli di poter crescere sempre più nel mercato internazionale abbiamo fatto passi da gigante al di fuori dell'europa nelle americhe in asia sia in giappone che in cina che in india quindi il nostro proposito di continuare a gestire questa crescita proponendo innovazione nei prodotti e soprattutto gestendo con i nostri clienti principali il business a livello locale quindi contribuendo con grandi investimenti comunicazione e nelle persone noi investiamo circa 4 per cento del fatturato in sviluppo di nuovi prodotti e questa è sicuramente una molla importante e saranno delle determinanti per la crescita futura noi cerchiamo ogni anno di innovare di portare dei cambiamenti cerchiamo sempre di metterci in gioco nel 2014 in questa euro cucina penso che abbiamo dato la dimostrazione che alla fine è solamente con il cambiamento è solamente con il mettersi in gioco che si riescono a vincere queste battaglie